Il corso base di amministrazione del personale offre un approccio pratico e operativo, ideale per acquisire o consolidare le competenze necessarie alla corretta gestione delle attività legate all'amministrazione del personale. Attraverso un focus dettagliato sulla composizione della retribuzione, il corso guida i partecipanti nei calcoli e nelle rilevazioni, tenendo conto delle ultime novità normative. Le esercitazioni pratiche su strumenti di analisi e gestione delle buste paga rendono il percorso formativo particolarmente utile per chi desidera affrontare con sicurezza le sfide del settore. Puoi scegliere se seguire il corso in modalità interaziendale nelle date programmate oppure organizzarlo presso la tua azienda, personalizzandolo sulle tue esigenze. Entrambe le modalità possono essere finanziate con fondi impresa o fondi dirigenti.